Allora è un ritrovo qua in piazza dei Lager di Pieve di Sorigo per proseguire per Val d'Obiadene alla cantina Bortolomiol e per poi proseguire ancora per il ristorante La Panoramica facendo la dorsale del Montello. Circa 220 persone di passioni e questa manifestazione viene fatta ogni anno, già 14 anni che la facciamo e verrà quello che rimane in beneficenza a un'associazione, la ricerca delle malattie rare dei bambini. Ecco, il nostro motto è questo qua e ci teniamo e per fortuna che il tempo ci assiste anche. E noi per fortuna ci assistiamo sempre. E abbiamo ogni anno tantissima gente anche che viene e siamo grati. Dagli anni 50 agli anni 80. La più rara sono le macchine inglesi o poi un Cadillac. Cadillac, ci sono diverse macchine proprio. E dopo ogni anno si aggiunge personaggi nuovi per cui non è che conosciamo tutti ancora perché si evolve ogni anno il nostro raduno.